Benvenuti su Tecnofilosofi TV, questa qua è una lezione del corso di logica e in questa lezione parleremo delle origini del calcolo della probabilità. Allora, quindi io ho voluto incominciare con questo argomento, vedete questo signore qua simpatico, parleremo di lui principalmente, e infatti questo è il libro consigliato, lui si chiama Jan Hacking, ha scritto diversi testi sul tema della probabilità, vedremo anche quegli altri testi oltre che questo qui, nel senso però in altre lezioni, cioè l'idea sarebbe appunto, come dicevo da un po' di tempo, incominciare a parlare di probabilità. Il filosofo principale sulla probabilità è chiaramente Blaise Pascal, però nonostante questo appunto non si parlerà solo di Blaise Pascal, anzi in questo percorso della probabilità vedremo un po' di cose, magari ci sarà l'occasione tanto di parlare del rapporto tra la logica e la probabilità, magari parlare anche un po' di statistica e poi sicuramente parlare di induzione, quindi parlare della svolta scientifica dell'età moderna. In realtà in parte io ho già fatto dei video su sto tema, nel senso si è parlato per esempio di Bacone, si è parlato di David Hume, poi sicuramente David Hume è un personaggio anche Bacone che ritornano un po', però quelli li abbiamo già analizzati, anche Pascal, con questo video vediamo delle cose, quello che dobbiamo ancora vedere sicuramente Galileo, sicuramente, e poi non lo so, poi potremo appunto analizzare, entrare più nel dettaglio proprio nel tema in sé, oppure parlare di, prima o poi bisognerà parlare anche di Leibniz, ecco questo, questo di sicuro, so che Leibniz, vediamo un po' come trattare poi l'argomento Leibniz, appunto, The emergence of probability, a philosophical study of early ideas about probability induction and statistical inference della Cambridge. Ok, questo è un libro, sì, molto, molto interessante, adesso poi, vabbè, adesso io ve ne parlo senza farvelo vedere, però, voi immaginatevi che questo libro è stato scritto, ovviamente vi metterò il link in descrizione, potete acquistare il libro se vi interessa, è ovviamente consigliato, però è un libro, praticamente, che Ian Hacking è una sorta di studioso della, da un lato storia delle scienze, dall'altro filosofia della scienza, ma insegna in Francia ed è profondamente influenzato da filosofi come Michel Foucault, no, ad esempio, soprattutto Michel Foucault. Questo libro in realtà vorrebbe prendere il metodo di Foucault, che è quello dell'archeologia del sapere, particolare facendo riferimento al libro che in inglese porta il titolo Order of Things, però il titolo originale in realtà era Le Molle Shows, e in italiano sono le parole delle cose, appunto. Quel libro lì che mette in pratica, diciamo, l'archeologia del sapere, come altri, e che però si incentra sulla storia delle scienze, e un certo fenomeno, un percorso scientifico che parte da un certo modo di ragionare basato su il la somiglianza e poi un certo sviluppo del concetto di rappresentazione, disegno e così via. Quindi è un testo abbastanza importante che mette al centro, diciamo, anche se uno pensa, non so, un esempio dei tanti, perché in realtà si tratta di vari argomenti, no? Per esempio c'è la filologia, c'è l'economia e c'è la biologia. Parlando di biologia lui, appunto, traccia un po' la storia, no? Dalla biologia, da un primo momento in cui la biologia non era biologia, ma era storia naturalis, quindi la storia naturale, e c'erano questi libri in cui magari, che ne so, un libro in cui si parlava di serpenti ma veramente erano dei libri che contenevano di tutto, non solo quella che poteva essere, diciamo, l'analisi scientifica dell'epoca sul serpente c'erano anche racconti sui draghi non lo so, tipo il rito per cacciare via i serpenti o cosa di tutto e di più, tutto mescolato assieme, no? E poi inizialmente c'era un certo tipo di mentalità basata sulla similitudine, no? Cioè che in parte lo dividiamo ancora oggi in certi contesti, no? L'esempio classico, no? Appunto la noce se noi l'apriamo assomiglia al cervello e quindi, no? Appunto, la deduzione, no? Allora la noce fa bene al cervello. Non è un non è un ragionamento scientifico in realtà questo, ma è un non lo so un tipo di ragionamento che si faceva in un certo tipo di epoca storica e ci sono ancora oggi delle persone che ragionano così, diciamo poi, appunto, la biologia si è evoluta, no? Lui appunto raccontano si è partiti con questa idea di studiare gli animali dividendoli in specie basandosi però sulla struttura dell'animale allora la vai a vedere, no? Classifichi gli uccelli per esempio guardando un po' la struttura del becco o cose di questo genere incominci a guardare un po' ma proprio come è fatto, no? l'uccello e poi man mano si evolve verso, diciamo, a un concetto di anatomia in cui praticamente trovi delle somiglianze tra animali differenti non sulla base di semplici somiglianze esterne, no? Appunto, no? Entrambi hanno il becco entrambi hanno le ali ma non semplicemente quello ma, appunto, a livello della struttura interna in particolare per quanto riguardano le funzioni e gli organi, no? Basti pensare so, Kant, per esempio, nella critica del giudizio lui parla molto del del concetto di teleologia nella biologia, no? il fatto di capire, no? nell'animale, no? appunto, le parti del corpo dell'animale vengono viste in base alla loro funzione, no? cosa serve il leone avere un certo tipo di denti o la zampa fatta in un certo modo e così via però qui, ancora di più c'è un'evoluzione, appunto, verso l'anatomia e quindi lo studio degli organi e quindi capire, no? appunto, il polmone, le branchie servono entrambe per respirare però sono diverse e così via, no? quindi un altro tipo di analisi dell'animale c'è tutta un'evoluzione, no? che, diciamo poi a un certo punto ha una svolta, no? diciamo, nella biologia soprattutto con personaggi come, appunto, Darwin quindi, quindi questa cosa qua, no? che ha un metodo, diciamo di studio, no? alla base, no? appunto, per Michel Foucault si tratta di capire, no? l'origine di una scienza questo è il metodo, praticamente della dell'epistemologia francese l'epistemologia francese nasce con Gaston Bachelard poi ha un diciamo una sua evoluzione di cui probabilmente Foucault è uno dei punti terminali diciamo perché poi come dire nella filosofia continentale sono tutti i movimenti i movimenti nascono crescono e muoiono così funziona con i movimenti e l'idea di Foucault è che praticamente c'è questa storia della scienza che è la vera spiegazione perché se io mi chiedono quali sono i fondamenti dell'economia quali sono i fondamenti delle biologie quali sono i fondamenti di certa cosa non risponderò se sono un sostenitore della prospettiva dell'epistemologia francese come gli analitici che sostengono che appunto le scienze sono fondate su dei principi astratti logici e così via quindi non sosterrò appunto un certo tipo di formalismo diciamo logico e così via ma andrò a dire che se voglio capire i fondamenti della scienza cioè quindi come è nata devo benamente studiare la storia so che la storia non è quella storia che insegnano ai corsi di storia è la storia dei concetti e delle idee quindi è una storia un po' diversa è una storia un tipo di studio di storia che nasce anche un po' in quel periodo volendo i francesi sono campioni in un certo senso della storia delle scienze noi abbiamo avuto una storia uno sviluppo diverso che è derivato principalmente da appunto il fascismo e in Italia c'è stato quello in Francia è andata diversamente hanno dato maggiore valore più che alla materia umanistica in quanto tali soprattutto allo studio della storia della scienza e quindi questa tradizione della storia della scienza che trovano sui massimi espressioni nell'epistemologia francese e come si studia questa scienza come funziona la cosa bisogna capire che c'è un certo momento storico in cui nascono determinati concetti che prima non c'erano che non vuol dire che quelle cose non esistevano appunto non si sta parlando semplicemente di cose non è che qualcuno sta dicendo che Ramses II non poteva soffrire di tubercolosi perché la tubercolosi non la conoscevano non è quello il punto il punto è che però all'epoca Ramses II cioè dal punto di vista della scienza dell'epoca non si sapeva cos'era la tubercolosi e quindi era una malattia si sapeva che c'era una malattia poteva essere scambiata per una semplice febbre non c'è perché il punto è capire appunto il concetto di campo epistemico appunto il fatto che esistono degli oggetti che sono oggetti della scienza e che vengono all'esistenza compaiono in un determinato campo epistemico solo da un determinato momento storico in cui ci sono magari delle rivoluzioni scientifiche che spiegano queste cose e tutto questo è estremamente importante anche per quello che noi stiamo vedendo appunto in questo corso perché uno dei temi centrali è sicuramente la rivoluzione scientifica del seicento di questo periodo qua quello che c'è Bacone Galileo Copernico tutto questo Cartesio questo Newton cioè qui siamo ai fondamenti diciamo di quella che viene conosciuta come fisica classica fisica classica appunto come protagonisti diciamo Newton Galileo Garcartesio appunto queste persone noi vedremo anche questa cosa in questa lezione in parte quindi questa cosa appunto le origini del campo epistemico della nascita di determinati concetti che prima non c'erano e così via questo è il metodo di Foucault cercare di tracciare come si forma un determinato le condizioni per la nascita di una determinata scienza e ovviamente però questo implica da un lato la storia delle idee poi ovviamente uno si studia anche il periodo storico certo ci sono queste cose la società no un certo tipo di discorsi un certo tipo di annunciati si va a studiare tutte queste cose diciamo che possono avere più o meno un legame e capire appunto quali sono le premesse cosa c'era prima in realtà come che poi come si evolve perché allora nel caso di Yann Hacking Yann Hacking tra l'altro qui credo la cosa sia interessante perché Foucault credo forse ma potrei sbagliarmi probabilmente era una persona che non amava tantissimo la matematica non ne parla quasi mai e così via Yann Hacking invece prende di petto un argomento che invece ha a che fare appunto con la matematica quindi la probabilità l'emergenza della probabilità Yann Hacking vuole appunto utilizzare il metodo di Foucault quello delle parole delle cose per fare un discorso sul tema della probabilità della matematica andando a studiarsi un po' quella che è anche la storia del concetto di probabilità perché non è che il concetto di probabilità nasce con Pascal non è che si è inventato la parola ovviamente veniva utilizzata anche prima solo che il problema è che ne cambia il significato questo è interessante no appunto questo è il punto andare a vedere come in differenti epoche storiche ad esempio cambia il significato di una parola si vuol dire un'altra cosa e quindi e quindi niente ecco questo è non solo ci sono somiglianti non solo viene adottato il metodo ma poi come si vede se uno proprio acquista il libro c'è proprio in copertina almeno nell'edizione inglese non so se ci siano altre traduzioni io chiaramente ho preso appunto faccio riferimento al testo in inglese forse c'è qualcosa tradotto in italiano di yana king ma probabilmente non questo libro e come esattamente in le parole delle cose c'è la citazione di un quadro e che tutto incomincia a parte il don kishot riferimenti al don kishot di foucault le parole delle cose c'è il quadro di velasquez qua c'è un altro quadro adesso non ricordo l'artista ma in cui diciamo il soggetto è appunto il cambling il gioco d'azzardo ok come è nata la probabilità allora possiamo dire che la probabilità diciamo nasce con pascal quindi abbiamo appunto delle origini filosofiche della probabilità però dobbiamo renderci conto che pascal non cioè tipo il modo in cui noi usiamo la parola probabilità è ancora diverso rispetto a quello di pascal cioè nel senso le teorie di pascal sarebbero valide ancora oggi ma vanno integrate con altre perché diciamo la probabilità si è evoluta in qualche modo e praticamente adesso siamo a un punto in cui quella di pascal viene chiamata probabilità classica adesso ci sono probabilità che non sono la probabilità classica la probabilità classica è un concetto si basa sull'idea per cui cioè la probabilità di un evento viene calcolata sulla base del il caso i casi in cui quell'evento accade o può accadere e i casi totali invece in cui quindi è una relazione tra queste due cose quindi se uno lancia un dado ad esempio caso classico si dirà che c'è una probabilità su 6 se il dado si faccia che esca 6 o che esca anche 1 perché tanto alla fine è uguale ma la moneta sa invece sarà 1 su 2 eccetera eccetera questa è la probabilità classica il problema della probabilità classica come si sa è che se io prendo due lottatori di sumo non posso dire che le probabilità che uno dei due lottatori di sumo vinca sono un mezzo solo perché sono due lottatori di sumo allora dico la totalità 2 allora dico no perché non è così perché probabilmente ci sarà un lottatore di sumo che è più bravo dell'altro e probabilmente ha più probabilità di vincere ma questo blaze pascal non non lo tratta diciamo non è questo quindi vedete che la probabilità di blaze pascal in realtà ha tutta una serie di problematiche in particolare oggi si parla molto di probabilità condizionata cioè nel senso se io ho una serie di informazioni su uno dei due lottatori di sumo che mi portano a pensare che ci sono maggiori di probabilità che quel lottatore di sumo vince allora devo ricalcolarmi tutto cioè nel senso di certo non vado a pensare che la probabilità sia un mezzo cioè 50% non è così che si ragiona però con i dadi con la moneta effettivamente questi ragionamenti si possono fare certo a meno che il dado appunto non sia truccato perché se io lancio un dado da 6 facce per il truccato allora a quel punto le probabilità che esca 6 se in tutte le facce c'è 6 diventano 6 su 6 però vabbè questi sono casi che comunque non vabbè di per sé non mi pare contraddicano la probabilità classica in realtà la probabilità classica è più contraddetta dall'esempio dei lottatori di sumo che adesso mi è venuto così in mente o comunque da casi in cui noi abbiamo diciamo le cose non possono essere pensate in termini così assoluti se vogliamo definirla così da dove comincia questo interesse per la probabilità perché Pascal si sa no Pascal ovviamente ha sempre amato la matematica per quanto l'abbiano un po' l'abbiano un po' allontanato da quegli studi lui in realtà si è avvicinato tantissime per conto suo ci è arrivato alla matematica e soprattutto si è interessato molto di geometria e ha scritto un testo che poi magari vedremo sicuramente lo spirito della geometria non mi parla di queste cose e la geometria è un altro argomento molto interessante relativamente alla logica ma non è quello che voglio parlare adesso poi ci sono interessi di Pascal Pascal tra l'altro ha costruito la prima calcolatrice la pascaliana che fa addizioni e sottrazioni capite questo solo per intendere di che personaggio stiamo parlando vabbè la jansenista tutta una storia ha contribuito anche a una serie di lui chiaramente era legato al Port Royale Arnault e quindi chiaramente si interessava anche di logica questo per dire chiaramente ma è arrivato al discorso della probabilità grazie a queste lettere di questo che è che è in particolare uno dei problemi imposti da che è che è come dire il più probabile ottenere un 6 lanciando 4 volte un dado da 6 oppure di ottenere 2 6 lanciando 2 dadi ma tipo 24 volte è quella cosa affascinante diciamo è scoprire che se io lancio 24 volte 2 dadi faccio dei calcoli insomma delle cose ovviamente ci sono più combinazioni però in realtà anche se a me intuitivamente così pensando penso ah cavolo se lancio 24 volte allora ci saranno più probabilità quelle 24 volte e invece non è così ci sono più probabilità che lanciando 4 volte un dato da 6 ma perché poi bisogna fare tener conto che il dato da 6 cioè allora i casi favorevoli 1 su 6 poi c'è 5 su 6 quelli non favorevoli insomma e quindi dovrò tenere conto di diciamo queste cose mentre appunto nei due dadi da 6 35 su 36 e tutta un'altra diciamo situazione appunto Pascal risolve questo problema adesso quello però diciamo qui è appunto una delle prime volte in cui diventa appunto evidente chiaramente Ian Hacking sa perfettamente che diciamo le condizioni perché poi il problema è come si è arrivati a questo e poi Ian Hacking ti spiega che c'è tutta una storia dietro tra cui di giochi e di cose varie ma magari lo vedremo un po' più avanti in realtà Ian Hacking è molto più interessato invece piuttosto che appunto il discorso del chevalier de Mer e questa roba qua che è il caso famoso è la scommessa su Dio perché anche la scommessa su Dio è tutta basata su un argomento della probabilità classicamente per dimostrare l'esistenza di Dio diciamo i filosofi medievali usavano tre argomenti che sono l'ontologico il cosmologico il teleologico ma tutti questi argomenti diciamo si basano sì diciamo su su sillogismi deduttivi forse un qualcosa di questo genere o comunque delle argomentazioni di carattere deduttivo qua praticamente l'argomento di Pascal è completamente diverso è appunto una scommessa lui la mette sul piano del gioco quindi ci sarebbe come lanciare una moneta appunto lancio la moneta se esce testa allora Dio non esiste se esce croce allora Dio esiste appunto può capitare un evento o l'altro qua chiaramente è chiaro ragioniamo in termini pascaliani quindi non c'è la probabilità è una su due cioè nel senso non c'è è così siamo la probabilità classica se io scommetto sulla non esistenza di Dio che vinco perdo ben poco da guadagnarci al massimo potrei pensare che una vita da cristiano richiede tutta una serie di rinunce e forse potrei guadagnarci sul fatto che non devo applicare a me stesso quelle rinunce però il reale problema la vera questione per Pascal perché scommettere sull'esistenza di Dio e perché il guadagno che io derivo dallo scommettere sull'esistenza di Dio e quindi di conseguenza comportarmi da cristiano e seguire un certo tipo di condotta è infinito e qual è questo guadagno infinito che andrò in paradiso e la beatitudine eterna questa cosa qua questo è un argomento appunto che per Pascal è assolutamente valido e certamente chiunque pensando in questi termini si rende conto che nel caso in cui dovesse perdere la scommessa davvero non ha niente assolutamente da perdere perché tanto mal che vada si muore non c'è niente dopo la morte è finita qua e vabbè è andata così ma se si vince appunto c'è la beatitudine eterna ovviamente questo argomento come ho già spiegato ha tutta una serie di problematiche normalmente perché qui ci sono due scommesse cioè nel senso io posso scommettere sull'esistenza di Dio ma io sto anche scommettendo sul fatto che se mi comporterò in determinato modo Dio mi ripagherà mandandomi in paradiso e quella non è una cosa certa chi te l'ha detto che poi Dio non ti manda all'inferno lo stesso anche se ti sei comportato anche se hai fatto il buon cristiano in realtà non si perché nella Bibbia c'è scritto che ma boh non lo so in realtà è possibile diciamo smontare questo tipo di argomento però la cosa interessante non è se Pascal ha ragione sull'argomento della scommessa oppure no diciamo che quello che interessa è appunto che la probabilità è un cioè che si parla di quello no che c'è appunto il protagonista diciamo dell'argomento appunto come si arriva Pascal e allora appunto ci deve essere una lunga storia di giochi d'azzardo da di il concetto di caso no questo è appunto no contrapporre no appunto perché la probabilità ammette l'uomo cioè contrapporre diciamo due concetti no quello della necessità la necessità diciamo che ne so una certa visione anche meccanicista no la serie causale necessaria eccetera eccetera che poi tra l'altro pure era anche abbastanza diffusa in quel periodo lì pensate non so a Cartesio c'è una certa visione però della necessità c'era c'era come dall'altra parte invece abbiamo il concetto di caso il concetto di probabilità nel senso di appunto di non necessità appunto anche di casualità e da questa dall'altra parte appunto della bilancia vediamo appunto filosofi che non sono Cartesio ma sono personaggi come per esempio David Hume che vedremo tra poco allora qui appunto Ian Hacking fa diciamo presenta un discorso che appunto c'è l'evoluzione del concetto di opinione no non di opinione diciamo di probabilità che poi si collega anche al concetto di opinione nel caso di come viene intesa la probabilità nel medioevo quindi differenza tra conoscenza e opinione nel medioevo c'è questa visione delle cose per cui c'è un tipo c'è la scienza vera e propria la conoscenza riguarda diciamo le cose che sono necessarie è certe no e poi come dire c'è un'altra cosa che si chiama opinione che è probabile ma la probabilità non si riferisce a quello di cui parla Pascal infatti che non in quella fase lì non aveva ben poco a che vedere con la matematica o niente ma si riferisce a qualcosa che è fondato sulla testimonianza o dell'esperienza oppure l'autorità o il libro il libro antico no l'esempio classico appunto può essere non so il fatto che una cosa compare magari nel testo della bibbia oppure che compaia diciamo Aristotele principalmente quella un'autorità Aristotele e poi c'è invece la teoria del segno teoria del segno come scrivo vedo un'impronta è passato un porco ma ci sono altri esempi questo era perché era divertente ma ci sono altri esempi non so vedo del fumo penso che ci sia qualcosa che bruci vedete che alla fine non è semplicemente il dato sensibile e basta diciamo che io formulo delle ipotesi diciamo che trovo delle relazioni causali tra le due cose però vedete che la relazione tra l'evidenza e l'ipotesi è probabilistica perché non è certo che se c'è del fumo qualcosa brucia non è certo che l'impronta sia del porco potrei sbagliarmi e così via no? e quindi diciamo nel caso della rivoluzione scientifica al di là del vabbè la matematica ma in generale diciamo si nasce una teoria del segno il segno è quello no? il fumo l'impronta del porco cioè diciamo l'impronta che trovo per terra che poi io attribuisco al porco diciamo e e che appunto quella è testimonianza appunto della natura che noi percepiamo con la sensibilità ok ma poi la teoria scientifica parte dall'esperienza ma non è l'esperienza e basta non è il solo vedere no? io so che la terra è sferica ma non la percepisco come tale da qui non la percepisco come tale so che la terra è sferica e quindi però questo è un altro discorso quindi Galileo versus Aristotele no? appunto il medioevo versus la modernità no? appunto ma perché? perché il mondo è scritto in caratteri matematici vabbè quella è un'affermazione di Galileo però qui la contrapposizione è tra la vecchia autorità qui non è ovviamente Aristotele in quanto tale ma gli aristotelici cioè quelli che durante il medioevo difendevano Aristotele come se fossero qualcosa di che non si può essere messo in discussione anche perché poi sono riusciti più o meno a piegare Aristotele al al testo della Bibbia quindi diciamo giocava molto ai loro fini mentre le tesi di Galileo erano abbastanza scomode avremo modo io spero di appunto vedere appunto Galileo questo potrebbe essere interessante soprattutto per quanto riguarda il concetto di induzione Galileo in qualche modo è un protagonista di questa rivoluzione scientifica e questo è un è un mondo che cambia cioè nel senso che Jan Hacking sottolinea il fatto che appunto nel testo di Galileo la parola opinione compare in riferimento ad Aristotele perché appunto l'autorità mentre Galileo contrappone l'evidenza scientifica questo è e a quel concetto di opinione poi viene collegato il concetto di probabile ancora lì si vede un certo tipo di pensiero ma le cose cambiano cambiano nel tempo in età moderna e David Hume l'abbiamo già visto in realtà ha già cambiato molto le cose soprattutto la concezione della scienza di David Hume che è qualcosa di molto diverso anche da credo sicuramente altri no vabbè no in realtà perché questa è la cosa strana David Hume quando scrive quello che scrive c'è il trattato sulla natura umana human nature lui è convinto che quello che dice è in realtà in perfetta sintonia con la visione di Newton diciamo almeno penso sia questo diciamo anche il suo la sua visione delle cose e boh questo è cioè nel senso però in realtà credo che Newton sia abbastanza diverso perché Newton ha questa visione un po' universale della legge poi ha una certa visione metafisica poi mette in ballo la nozione di Dio e così via quindi anche quello è un altro personaggio che sarebbe da leggere Isaac Newton adesso non so adesso in questo corso qua non c'entra poco però comunque è uno dei famosi appunto protagonisti della della fisica classica qui vedremo sicuramente Cartesio penso che Lileo sicuramente sono personaggi di Newton magari ci interessa di meno però magari ci saranno altre occasioni magari per parlare di Newton se capiterà David Hume appunto lui ha ancora questa visione del non so come dire delle delle scienze certe come scienze che sono basate su verità che sono assolutamente necessarie quindi la matematica ad esempio però è da sottolineare che David Hume è una persona che è un filosofo che è profondamente convinto del fatto che la matematica sia soltanto un elenco di tautologie di diciamo c'è più che tautologie e giudizi analitici il discorso sulla tautologia era più un discorso di Wittgenstein però alla fine siamo lì cioè nel senso Kant per esempio usa il termine giudizio analitico per dire il triangolo è triangolare quindi giudizio analitico perché è contenuto già nel concetto ma del resto anche se io dico la somma degli angoli interni di un triangolo è uguale a 180 almeno nella geometria euclidea diciamo questo è un certo è valido però è una caratteristica del triangolo cioè appunto quindi è una cosa che almeno in una certa visione filosofica appartenrebbe all'essenza del triangolo e per questo motivo allora poi si pensano allora quindi un giudizio analitico perché il predicato era già contenuto nel soggetto e così via poi ci sono le scienze naturali e le scienze naturali non sono quelle scienze certe nelle scienze naturali introduce David Hume il concetto di probabilità perché perché le nostre affermazioni che noi facciamo sulla natura sono di carattere probabilistico però qui appunto c'è da sottolineare che Hume era convinto che la fisica funzionasse veramente così cioè lui questa è la sua visione della fisica no? quindi che il sole sorga tutti i giorni è una cosa che noi diciamo perché l'abbiamo sempre visto sorgere quindi quando noi diciamo e lo farà anche domani in realtà è soltanto un discorso almeno per quanto riguarda David Hume probabilistico però perché poi qui sarebbe tutto un argomento molto interessante cioè nel senso per esempio in filosofia si parla molto delle leggi della fisica sono universali necessarie valgono ovunque oppure no oppure no oppure no e quello oppure no è appunto è l'altra fazione l'altra fazione capriciata appunto da David Hume ancora oggi ci sono per esempio persone che invece di parlare di leggi della fisica preferiscono parlare di tendenze adesso non mi ricordo sinceramente i nomi vabbè ma leggetevi Manuel de Landa sicuramente è uno che può essere abbastanza vicino a questo tipo di pensiero sicuramente e ci sono altri personaggi filosofi diciamo vicini a noi come periodo storico che sostengono diciamo hanno una visione diciamo più hummiana un altro cui piace hum che intemme lassù per esempio anche quello è un altro cui piace hum ma comunque quindi noi diciamo che le cose vanno sempre in un certo modo no le che noi chiamiamo leggi della fisica in realtà per David Hume sono fondate sull'abitudine ma cosa vuol dire che sono fondate sull'abitudine significa che c'è una relazione che è probabilistico che quindi è probabilistico poi noi possiamo pensare che è molto probabile che il sole sorgerà domani o che in generale se prendo una penna e la lascio cadere non vola ma cade in basso però poi giustamente chiaro anche queste cose dipendono da tutta una serie di fattori ci sono diciamo luoghi in cui non c'è la gravità non questo però in realtà Newton quando presentava le leggi della fisica tendeva a presentarle come qualcosa di universale necessario c'era un po' quest'idea a Hume diciamo di altre vedute e Hume è centrale appunto a questa svolta diciamo verso il concetto appunto di probabilità un concetto di probabilità che non è quello dei medievali moderno che incomincia a collegarsi al concetto di calcolo alla matematica con Pascal e in generale a quello di scienza perché prima invece aveva a che fare con il tizio che citava il testo antico e che faceva riferimento all'autorità il famoso argomento appunto per l'autorità e che però quello era dopodiché appunto è interessante anche Leibniz come appunto protagonista di questo discorso appunto una cosa importante appunto per l'origine della nascita del concetto di probabilità dice Ian Hacking e anche l'arte combinatoria che incomincia con Raimondo Lullo l'abbiamo già visto in in questo corso Raimondo Lullo filosofo medievale ma prosegue anche con appunto Leibniz che si interessa comunque anche lui dell'arte combinatoria Leibniz è un grande studioso di logica uno di quei tanti personaggi che falsifica diciamo l'affermazione di Kant quando si dice quando dice che appunto la logica non ha fatto nessun passo avanti da Aristotele a lui cioè uno dei tanti e si interessa anche di logica induttiva poi c'è tutto questo discorso sulle cui possibilità come concetto di possibilità in Leibniz che tende a sovrapporsi a quello di probabilità la combinazione è interessante perché se io lancio due tre dati eccetera eccetera ottengo dei risultati che sono delle combinazioni no uno 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 sei 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 due cinque quattro sono combinazioni e quindi se io voglio studiare quanti sono le probabilità che esca un certo risultato o un altro devo andare a vedere le combinazioni che questi dati possono dare come risultato quindi i dati si con dare come risultato ok ottimo quindi questo è intanto per dare un'introduzione diciamo a quello che potrebbe essere appunto l'argomento dei prossimi video sicuramente penso nel prossimo video appunto sarebbe da vedere appunto Galileo sicuramente sarebbe interessante vedere un po' di Galileo così dell'induzione più che altro vedere il destino del concetto di induzione già abbiamo visto Pacone però questo appunto Galileo appunto personaggio appunto importante e poi man mano cercare di magari entrare anche un po' nello specifico su questi concetti diciamo ci sono diciamo tre cose una è l'induzione che però ha a che fare diciamo con il processo scientifico qui Galileo chiaramente Bacone Bacone abbiamo già visto Galileo appunto personaggio di riferimento poi per quanto riguarda invece probabilità e logica certo però quello comunque lì è sempre legato anche all'induzione ci sarà modo anche di vedere un po' la probabilità in generale che appunto è matematica magari un altro personaggio che potrebbe interessarci è Keynes 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 in realtà l'economia ha avuto un largo intreccio con la logica in particolare a partire da Stanley Jevons il marginalismo fino ad arrivare a diciamo le influenze che ha avuto Tarsky su per esempio chi ha sostegno l'attoria dei giochi ma poi c'è un lungo scambio tra logici e economisti cioè appunto Bertrand Russell Keynes o Keynes come si pronuncia e e l'altro appunto Wittgenstein e Piero Seraffa economista italiano tra l'altro quindi quindi questo è poi c'è un appunto questo terzo filone che vede di nuovo diciamo al centro anche l'economia e che sarebbe anche interessante capire appunto statistical thinking Jan Hacking ha scritto anche sullo statistical thinking quindi quindi questo diciamo è assolutamente non qualcosa di appunto interessante bene se vi è piaciuto questo video allora se volete sostenere questo canale per esempio potreste comprare il libro di Jan Hacking troverete il link in descrizione assolutamente Jan Hacking è grandissimo scrittore e tra l'altro credo forse uno dei filosofi o diciamo studiosi di filosofia mettiamolo così perché poi non so se lui più o meno abbia sviluppato un pensiero però comunque uno dei maggiori studiosi di filosofia di oggi forse uno dei più interessanti anche un po' diciamo quasi a cavallo lui cioè alla fine come dire insegna in Francia ma non è che sia francese cioè almeno dal nome non possiamo darci a vedere vediamo qua Jan Hacking giusto per fare vediamo poi qui ci sarà un paio di cose ah vedete che alla fine lui viene dal Canada però lui in realtà perché qui parla parla solo del del Toronto ecco no però adesso appunto dal 2006 è ricoperto Collège de France ah no aspettate è stato anche a Città del Capo vabbè Città del Africano concluso la carriera da insegnante ah quindi probabilmente ci ha già lasciati penso sia ancora vivo me lo auguro però comunque e questo personaggio qua vediamo se riusciamo a prenderci no questo no adesso io qui non so ma magari si vede male questa è la copertina appunto dell'album del libro e vedete appunto quadro appunto sul questa è l'edizione della Cambridge io non ho idea se ce ne sia però vedete che ci sono un sacco di testi molto belli veramente di questo personaggio sarebbe proprio da esplorare assolutamente ok ci vediamo allora se siete interessati poi a quello che faccio io chiaramente c'è il sito www.technophilosophy.com per approfondire io parlo anche di programmazione filosofia in generale ma anche informatica e quindi potrete in modo di appunto guardando il canale youtube tecnophilosophy.tv canale twitch tecnophilosophy.tv avrete in modo di conoscere magari tutti questi temi diciamo che io tratto niente per il resto ci vediamo a una prossima lezione in cui parlerò presumibilmente di Galileo un po' Grazie.